Ciao Buongiorno 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 Ciao 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 Siamo così Ciao Siamo così Siamo così Siamo così Buongiorno Buongiorno Guarda, bebe Trins, principi Allora Buongiorno a tutti Ciao Mi chiamo Giuseppe Il mio lavoro è mosaicista È un strumento Giuseppe È un nome Il è di Bazzacchio In questo È un strumento Isto Cosa Siamo È un strumento È un strumento È un strumento È un strumento Poджazione In converti È un strumento 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 È un strumento